Perché Auraton Italia ha scelto di essere qui oggi, di promuovere questo evento destinato alla sicurezza stradale con ingegneri? Ha deciso di fare questo intervento perché lo ritiene importantissimo, avere questa opportunità di parlare di fronte a una platea di ingegneri è fondamentale, non sempre abbiamo la possibilità o l'occasione di fare questo. Per cui avere questa possibilità di parlare in maniera ampia a una schiera di ingegneri, spiegare che Auraton sta investendo molto su questo argomento lo riteniamo molto importante, è un investimento interessante.